Voi stai riferito al body rossa della... No, io! Sono io! No, infatti credevo. Accettami la richiesta! Minchia, non è di più difficile? Non è quello che ti viene bene. Minchia, sono qua! È un'ignoranza. Minchia, ma quanto cazzo ci hai messo? Eh, io non capisco. No, scherzo. Ciao! Perché sei entrato proprio nel momento in cui la mia amica si è alzata ed era in mutande e ha il body rosso e quindi pensavo fosse riferita a quello. La mia amica. No, non alzarti, non alzarti! Non alzarti, eh! Cioè, non alzarti. Perché no? No, non alzarti! Cioè, se vuoi farlo ora, ma non farlo mai più. No, non... Sto facendo una cosa più importante. Ma è veramente in mutande? Eh, perché si è spiegato i pantaloni ed è tipo... Cioè, stavo facendo una foto allo specchio e tipo, era seduta, si è strappato i pantaloni e quindi adesso sto di specchio. Sì, sì, no, no, me ne frego un cazzo. Cioè, comunque, stavo dicendo. No, no, scusami, scusami, scusami. Ciao! Ciao! Ciao, Marti, come stai? Bene, tu? Bene! Porca troia, mi hai causato il telefono! Da quanto tempo? Antonio sbancatore. Antonio sbancatore, aspetta. Mi aveva un fritto a lui. Eravamo diventati un interno. Ma cosa stai facendo? Non ero io. Scusami, me l'ho... Tranquillo, tranquillo. No, me l'ho fatto un attimo, me l'ho fatto un attimo prendere. Grazie mille per il quattrocento, grazie. Bomba! Alfonso, no, scusa, ho parlato con Alfonso. Ma voi quanti anni avete? 19. Che sarà Francia. Facciamo un sesso? No. No, scusa, ho sbagliato. No, no, che disastro, scusami. No, no, non volevo. Non volevo, scusami, scusami, è una battuta che fa... Ciao! No, ti saluto. No, va bene, mi ricorderò. No, adesso ti saluto. Cane, porco! Bene, bene. Basta, vedi quegli uomini. Chi ci sta? No, eh... Eh? 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 Mi c'è un mese. Eh... Quanto si fa? Eh, scusa. Eh... Eh... Piondine! Patatine! Ciao! 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 Bionda sul lato sinistro, come ti chiami? Francesca, sei simpatico. Sì? È la sordomuta. Sì, bella, bella, bella battuta, mi dissocio ovviamente. Ma comunque, quanti anni hai? 2007. No, veramente... Devo dirmi la verità. No. No, non dirmi la verità, che cazzo me ne faccio? Per favore, dai, per favore. Tu quanti anni hai? Io ho 22. No, pensi sia tipo 2004. Ma che cazzo ne sei tu della mia vita? Che cazzo ne sei? Ma infatti non mi interessa, era un caso... Potresti dirmi se è una carie? Potresti dirmi se è una carie? Giulia! Ciao, Mattia! Scusami, me l'ho fatto attivo a prendere l'emozione. Di dove siete? Di Treviso. Dov'è? Di Giulio? No, Beneto. Ah, ok. Quindi, cioè, voi... Come si chiama la tua amica? Con l'album no o con l'amora? Ma... Vi fidanzereste mai con me, per favore? No. Dai. Perché? Perché di no. No, vabbè, troppo. Mi stanno sul cazzo, questa sera, basta. Decido io. Così, io faccio entrare gli altri e... Basta. Sì, avanti così. Ok, ragazzi. E... Aspettate che mi sposto su Streamyard. No, veramente dei diti nel culo. Dei... Delle dita nel culo, scusate. Adesso non iniziate con F, ragazzi. No, eh.